Dove vai, nonno? Scendo in cantina, che voglio finire il mio vegliero fatto tutto per fiammiferi. Sono a buon punto, lo sai? Ma dico, non piacerebbe il allagamento, che meglio non scendere in cantina. Papà, ti hai ragione, non scendere, è pericoloso. E tu dove vai, papà? Scendo in garaggio un attimo e porto la macchina in un posto sicuro. Sì, bravo, anche io vado in taverna a recuperare i documenti, poi magari metto su anche una lavatrice. Ma siete tutti mazzi? Hanno avvisato che può esserci un allagamento da un momento all'altro. E i piedi terrati sono i più pericolosi. Vieni a scoprire come prepararti all'emergenza giocando i nostri quiz. Domenica, 11 ottobre, dalle 14.30 alle 15.30, alla nostra pagina Facebook Io non rischio Brugherio. Ciao! Ciao! Ciao!